buongiorno buongiorno a tutti ben ritrovati cari telespettatori allora siamo in diretta sette e mezzo si sente il profumo del caffè della colazione allora buona colazione a tutti voi e il caffè si sente anche alle 13 e 30 quindi dopo pranzo per chi ci segue in replica allora vediamo subito il santo del giorno il santo di oggi è un santo del 1138 san pietro nolasco ed è un un santo pietro nolasco del 1180 scusate che è nato nel sud della francia il sole è sorto alle 5 52 tramonterà 17 minuti dopo le 20 oggi avremo un cielo sereno poco nuvoloso con temperature in aumento per la giornata di domani sabato fine settimana più o meno stessa cosa tranne un po di stabilità nell'entroterra stessa fotografia più o meno con temperature senza variazione di rilievo anche per la giornata dell'otto di maggio cominciamo a leggere i giornali la pagina di fanno del corriere adriatico la crona che ha investito e ucciso da un treno vittima un giovane di ostra travolto da un freccia bianca in transito fuori dall'area passeggeri vedete la fotografia con il lenzuolo bianco dove dietro il corpo senza vita sui binari la salma coperta appunto da un lenzuolo rimossa dopo oltre tre ore la polizia propende per un gesto volontario e poi sempre sulla pagina di farlo del corriere salvato il servizio estivo degli asili nuova organizzazione per 80 posti disponibili per cinque settimane tra luglio ed agosto l'ondei lascia la presidenza dell'ami l'azienda dei trasporti annuncia sorpresa nessuna polemica voglio dedicarmi all'accademia delle belle arti oggi scade il consiglio di amministrazione della società di trasporto pubblico con 12 milioni di viaggiatori e il bilancio inattivo o sempre abbandonato dopo due mandati solo da sindaco ne ho svolti tre e forse ora pensa al quarto gli muore il padre detenuto tenta di uccidersi ha saputo della morte del padre e ha tentato di farla finita è successo nella mattinata di martedì all'interno del carcere di villa fastigi ancora dal corriere la pagina di pesero ripascimenti la regione in calza sui fondi per l'arenile eroso 50 mila euro ma gli operatori ne vogliono il doppio tandem per le scogliere disponibilità dell'assessore cesetti a concorrere con il comune alla metà della spesa per le barriere stiamo parlando dei ripascimenti a pesero impenna tutto gas con la moto con la moto ed è stato multato poi insulta persone i carabinieri è un'impresa quella notturna di un quarantenne che dà in escandescenze quando gli sequestrano la moto ha percorso via lanza a grande velocità tanto che una pattuglia dei carabinieri appostata all'incrocio proprio tra via lanza e via giolitti è stata allertata dal rumore potente di questo motore di una motocicletta che chiaramente lanciata era lanciata a palla questo ha fatto persino in una impennata quando è ripartito dall'incrocio insomma alla fine lo hanno fermato gli erano sequestrata solo che lui ha dato ha dato di testa e quindi insomma ha insultato i carabinieri la pagina di senigallia ancora oggi si occupa del rogo la cesanella la pista porta il cortocircuito c'è stato un nuovo sopralluogo ieri alla union cosmetics questa azienda che è andata a fuoco l'altra notte gli investigatori ritengono che la causa sia accidentale il magazzino è stato completamente distrutto e non si riesce a individuare il punto di partenza del fuoco sospesa l'attività della linea del campionato europeo di calcio l'azienda entro vertigiori dice ripartiamo badante ucraina denunciata spuntano nuovi racconti una storia che ha dell'incredibile è una storia che potrete leggere sulla pagina di senigallia di oggi del corriere adriatico andiamo adesso sul messaggero in apertura sulla pagina di pesero in regolare un'azienda su due lavoro il report di un anno di ispezioni specchio di una provincia che esce a fatica dalla crisi in aumento i dipendenti in nero e le infrazioni con un'evasione accertata di almeno un milione a centro pagina vedete la fotografia di lucia nibali caso acido ultimo atto è attesa per martedì prossimo 10 maggio la sentenza della cassazione gli sequestrano la moto e reagisce come una furia anche qui quarantenne in penna in centro poi litiga con i garabinieri ed è stato denunciato le altre pagine del messaggero otto mesi di lavoro per pagare le tasse l'osservatorio della cna dice a pesero gli imprenditori sono impegnati fino al 19 di agosto quindi cinque giorni in più della media nazionale per pagare le tasse poi dal 20 di agosto in poi teoricamente dovrebbero guadagnare qualcosa l'associazione di categoria denuncia la pressione fiscale è aumentata dell'otto per cento negli ultimi cinque anni acido ultimo atto in aula anche lucia la parola definitiva spetterà la corte di cassazione la sentenza il 10 di maggio i giudici chiamati a confermare o almeno la condanna vent'anni a luca varani per l'aggressione a appunto a lucia annibali don marco invece per tutti don digio in terra santa la guida di una rock band un'esperienza fantastica ora pensiamo di invitarli a tenere un concerto nella città di pesero lavoro in regolare un'azienda in un'azienda su due anche qui tutte le cifre le cifre riportate dal quotidiano con l'inserto pesarese poi la colle marathon da barchi a fano verso il traguardo dei 1200 iscritti cresce l'attesa per la tradizionale corsa che si terrà domenica giunta al 14esimo anno di vita e adesso la pagina di fano del messaggero con il nuovo ospedale sempre in primo piano a fosso signore ci sono tre giornate contro il progetto stasera un incontro con l'esperto cicconi sugli aspetti legati al project financing e poi gli stessi ambientalisti sono pronti alla marcia di protesta del 15 di maggio il comune vuole premiare i locali anti slot al vaglio la possibilità di incentivi con la riduzione delle aliquote di tari o tosap chiudiamo con il resto del calino questa è la pagina di pesero date asilo ai rifugiati la fotonotizia l'ex scuola sacro cuore nell'elenco per accoglierne altri 725 di profughi rispuntano stelli e hotel nell'interno della provincia sull'ex amga invece a pesero il comune ha i suoi guai il consiglio di stato conferma e dice corresponsabile il comune di pesero dell'inquinamento non aveva mai avvisato sotto perché è morto mio marito lo vedremo tra un attimo la disperata domanda di stefania del moro chi è stefania del moro la vediamo subito eccola qui nella pagina di fano del resto del calino di oggi il dramma di questa donna che vuole sapere perché il marito è morto il marito è deceduto quasi due anni fa e ormai questa signora insieme alla figlia ha dovuto fare persino un esposto in procura per avere delle risposte dei medici della santa croce quest'uomo è morto sette giorni prima di festeggiare il suo sessantesimo compleanno tra l'altro alberto del moro era assurdo agli onori delle cronache 24 anni fa perché dal suo amore per stefania era nata Laura prima bambina italiana concepita con la fecondazione assistita e bocciata invece la mozione popolare sull'ospedale unico contro la riforma regionale il centro-sinistra ha votato infatti compatto nella riunione di maggioranza stiamo parlando della riunione di maggioranza del comune della giunta di fano il segretario del PDP ci dice siamo tutti sulla stessa linea il sindaco seri è andato in piazza solo per rispetto di tutti per rispetto delle persone che erano di presenti e che in qualche modo l'avevano comunque invitato fano è città dei bambini ed è una risorsa bene comune e l'associazione l'alveare per il rilancio del progetto la felicità è possibile basta fotografarla e vincere un premio contest per documentare attraverso le immagini il tema della prossima edizione del festival passaggio ex AMGA anche qui il consiglio di stato dà responsabilità pure al comune comune di pesaro confermata sentenza del tar non ha avvisato i privati che c'erano lì sotto delle vasche direi che possiamo fermarci qui la resegna stampa occhio ai giornali torna domani mattina come sempre alle 7.30 questa sera invece c'è il telegiornale occhio alla notizia ma vi ricordo anche che abbiamo la nostra applicazione sul cellulare sia l'iPhone che Android quindi andate nei market per scaricarla gratuitamente basta digitare occhio alla notizia buona giornata a tutti buona giornata a tutti buona giornata a tutti buona giornata a tutti buona giornata